Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto presentando è un romanzo storico che racconta la storia di una donna, la cui vita è stata plasmata da eventi tragici, caratterizzata da un amore intenso e da un temperamento ribelle. La trama segue le tappe della sua esistenza, attraverso i grandi avvenimenti del Novecento, con alti e bassi che la vedono protagonista. Il testo offre una riflessione profonda sugli eventi del Novecento e sull'impatto duraturo degli affetti e delle scelte personali. La trama del libro Lo sguardo a metà dello scrittore Francesco Sullis, pubblicato dalla casa editrice Rossini, è la seguente. La vita di Caterina De Michelis è stata un susseguirsi di eventi tragici che ne hanno forgiato il carattere ribelle. L'amore viscerale per un uomo ha scandito le tappe della sua esistenza, che ha attraversato i più importanti avvenimenti del Novecento, con alterne vicende che l'hanno vista protagonista. Alle soglie degli anni Ottanta, con una salute precaria ma uno spirito ancora indomito, affida a un nipote la realizzazione di un ultimo desiderio. Quando Emiliano De Michelis, aspirante scrittore in crisi di identità, riceve una penna stilografica accompagnata da un loconico messaggio, raccoglie a sua insaputa una sfida che svelerà verità a lungo taciute. Grazie a un'istancabile ricerca sul campo e all'aiuto di diversi personaggi, scoprirà segreti che ancora oggi gridano vendetta, mentre l'onta di un passato che nessuno può più cancellare si riaffaccia con prepotenza. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video ed aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.